Utilizza una nuovissima user experience, a mio avviso è la user experience più naturale e intuitiva, la propria mano, quindi i propri gesti della propria mano, si tocca uno schermo olografico e si seleziona in questo modo la propria scelta. Lo abbiamo definito il configuratore immersivo, è la naturale evoluzione di un prodotto che abbiamo già lanciato nel 2016, prima e rilanciato nel 2017, il catalogo immersivo in realtà virtuale in realtà aumentata. Questa volta però si chiama configuratore immersivo perché abbiamo voluto aggiungere all'aspetto aspirazionale ed emozionale di un prodotto di realtà virtuale che permetta ai nostri utenti di vivere in pieno ed essere immersi nella nostra offerta, nel nostro prodotto, quindi nelle nostre bellissime navi, nelle nostre destinazioni, al contempo però di avere un vero e proprio strumento di scelta, vale a dire configurare la propria prossima crociera. Andando a scegliere tutto, la destinazione, la nave e la cabina dove si alloggerà, quanti passeggeri e avendo tutte informazioni in tempo reale ed aggiornate, circa la disponibilità, circa il miglior prezzo. Un vero e proprio strumento di aiuto, di supporto per poter scegliere la propria prossima vacanza. Sarà possibile scaricare gratuitamente l'app MSC 360 VR e poter provare liberamente a casa propria questa bellissima nuova esperienza, anche grazie ai cardboard, dei visori di cartone che noi regaleremo, inclusi nei nostri cataloghi viaggi, che saranno presenti da aprile in tutte le agenzie di viaggi. Ma ancora ci sarà una sua versione 2D, non più in realtà virtuale, ma sempre con la medesima esperienza touch, che potrà essere fruita sia sui telefonini ma anche sui touchscreen. Samsung, ormai sono più di due anni, è il nostro partner tecnologico esclusivo, lo è sulla nave, quindi i monitor e tutta la tecnologia utilizzata sulla nave è Samsung e lo è e lo sta diventando sempre di più anche fuori dalla nave. Quindi per noi, come raccontavo oggi, la tecnologia è un aspetto sempre più importante e se la tecnologia è un aspetto sempre più importante, Samsung, che è il nostro partner tecnologico, diventa sempre di più un partner rilevante. Sarà un anno straordinario perché vareremo due nuove unità all'interno della flotta MSC. A marzo arriverà MSC Bellissima, la gemella della Meraviglia, e a novembre MSC Grandiosa, che è l'evoluzione della classe Meraviglia. Parliamo di navi da oltre 2000 gabine. Poi le destinazioni, le destinazioni sono la grandissima novità di questa programmazione. Innanzitutto una crociera di 22 giorni in Ruellandia, poi delle crociere New York, New York, che daranno la possibilità ai nostri ospiti di visitare la costa del Maine e raggiungere il Canada e Quebec City. E poi, altra novità presentata, a termine del 2019 arriverà MSC Ocean Key Marine Reserve, un'isola privata che MSC sta di fatto costruendo, nel vero senso della parola, un'isola nelle Bahamas a 60 miglia nautiche dalla costa degli Stati Uniti da Miami, un'isola straordinaria che sarà un'estensione fisica del prodotto nave. Grazie.